Questa è una galassia con tante correnti e correntine, con molti soggetti autoreferenziali che dicono tutto il contrario di tutto, l'abbiamo visto prima nessun congresso, l'ha detto Renzi, andiamo subito alle elezioni, poi adesso facciamo il congresso, si passano le giornate tra direzione del Partito Democratico ad assemblee, quella che si verificherà il prossimo fine settimana, da conferenze programmatiche fino al congresso, insomma un sacco di sedi e opportunità per cantarsela addosso, la verità è che non ha capito il Partito Democratico il segnale dato dagli italiani lo scorso 4 dicembre, che è stato un segnale molto forte non solo a Renzi ma al Partito Democratico e essendo un partito autoreferenziale sicuramente lontano, l'ho detto prima, lo ripeto, dalle esigenze del mondo reale, abbiamo visto protestare oggi i vigili del fuoco che rivendicano meno precarietà, stipendi adeguati, che rivendicano attrezzature adeguate quando operano… Sono poi gli stessi che ringraziamo per il terremoto, per tutte le tragedie del Paese, sono quelli che si sono lamentati durante l'emergenza della tragedia di Rigopiano, lì erano a lavorare in pochi sostenendo dei turni pesantissimi, angeli del soccorso, mi viene da parlare del terremoto o dell'emergenza maltempo, ci sono delle comunità interi, interi comuni soprattutto della regione Abruzzo e delle Marche colpite gravemente dall'emergenza maltempo che non sono state assolutamente considerate dal governo nel nuovo decreto terremoto che è in fase di conversione. Ieri c'è stata un'altra protesta eclatante che è quella degli ambulanti che subiranno dalle decisioni assunte da questa maggioranza nel decreto mille proroghe, sicuramente molta incertezza per quanto riguarda il loro futuro, il governo ha deciso e la maggioranza sostanzialmente di aprire le porte a questa direttiva Bolkestein, la direttiva servizio europea, quando in realtà c'era la possibilità di salvaguardare ancora per un periodo di due anni questa categoria.